Nuketown Andare a Nuketown? Provo a vedere se esiste sotto Provo a vedere se esiste sotto Eh? Sì, andiamo Se vogliamo alle ville, eh! Nuketown Andare nel sottosuolo o star fuori? Non so dove è sottosuolo Sottosuolo seguimi, vieni qua, è tutto a destra qua Eeeeeeeh Niente, ci stanno andando altri Vengo una a casa No, vado la in fondo Mai Non è che mi possa girare più di tanto Corazza livello 2 Mi dai un'arma Ah Cordite Qua è un brutto rapporto con Cordite In realtà con tutte le armi Ah Quella è la scesa Scusa Se c'è solo questa entrata io ci piazzo questo Così non possono più uscire Guarda a sinistra Ma sembra che non ci sia un cazzo nessuno No, però hanno fatto questo Mi dici che prendo Facciamo una rampart che lo prendo Facciamo una rampart qua Vedo un mitraglione qua Quale mitraglione è la Hades? Spari a nord eh? Lo zaino, porca troia è un zaino Eccolo la, lo vedo da sopra Come si sale però di qui? E' un draco razza a livello 2 nel caso E' un draco razza a livello 2 nel caso Ma dai L'ho fatto esplodere per sbaglio Non ha funzionato bene come l'altra volta Non ha funzionato bene come l'altra volta Vedo c'è anche paranoia questo qua di mio prendertelo Arrivo No, uno ce l'ho già Si c'è un'altra corazza di livello 2 Ho notato l'enculata lui, bastardo Non so dove ce n'era un altro Tranquillo Ok Io andrei su questa casa qua dentro Io, io no quella lì però Perchè? La più camperata puoi mirare da sopra E ho le mini mesh Però come si sale? Ah da qua Collegamento di squadra C'è solo Ok Eccoli la 148 150 Visto Il silenzatore vero? Hanno una bella posizione anche sopra elevata Hanno una bella posizione anche sopra elevata E sta sparando quei due tipi là Uno atterrato E' preciso io sento i rumori a 165 Andrei comunque verso sinistra E' anch'io Andiamo? Andiamo andiamo Uso tutto Anche paranoia di nuovo E forestia Purtroppo non ho silenzio di tomba Collasso del cerchio imminente Portarsi al sicuro Spari là a destra Sinistra Scusa Sud ovest Ok stiamo su Siamo su Eccolo là Giù 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 Albero Mi ha visto Vittor Alleluia Un po' di camperaggio Uno io l'altro in teoria Però Avevo fatti tutti e due te Boh No io non ho ammazzato nessuno Era lui vivo che è scappato No praticamente vivo e è andato via Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace E di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti Vi ricordo di iscrivervi qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao